87esima edizione della Fiera, si affrontano sempre tematiche importanti, prima fra tutte sicuramente al centro c'è uno scontro tra governo e regioni e quello dell'autonomia differenziata. Purtroppo è uno scontro assurdo perché l'autonomia differenziata di fatto è una procedura, è una legge che spacca l'Italia, ma la spacca l'Italia e sta scritto all'interno stesso della legge. All'inizio dicono sì vogliamo tenere unita l'Italia, ma andando più avanti c'è scritto che una volta che sono stati definiti gli accordi fra le regioni e lo Stato, se lo Stato dovesse avere bisogno di soldi le regioni potranno dire amico mio io ho questo pezzo di carta per cui non devo darti nulla. Quindi è uno scontro molto forte, io spero che gli italiani possano comprenderlo quando si arriverà al referendum perché l'Italia è una e va tenuta unita e questo referendum, questo disegno di legge, questa legge non fa bene non solo al sud ma neanche al nord. Quindi è quello che dovremmo cercare di spiegare a tante persone che ancora oggi pensano che l'autonomia differenziata sia qualcosa di molto lontano e invece impatta direttamente sulla vita di tutti.